No, domani arrivano 7 più 7 e andiamo avanti a consegnare. Voi scaricate, no? Sì, domani dovremmo riprendere. Perfetto, vi bacio mai a fronte allora, ci vedremo poi domani o giovedì, ci vediamo che vi farà la campionatura di Cromo. Eh sì, forse domani, però non lo so perché riprende ancora arrivati il forno. Voi ce la fate comunque andare avanti a ribaltarmi la buca dove voglio ribaltare gli autistici? Eh sì, quella della campionatura sì, è giusto a problema. Ho capito, perché oggi è compleanno di luglio-settembre. Pronti? Marco, scusami se hai disturbo. Da domani sembrerebbe che i camion per scaricare ci hanno messo attaccati la vigilanza. Tutto questo, per cui siamo una merda, il camion, il mio reclame, sì, il 304. Abbiamo lì un po' di tornitura noi? Siamo un po' messi male a queste combattie, no? No, per tornitura avevamo 21 camion, 21 tonnellate, 21 tonnellate. Eh ma la terra qua stai, guarda quanti sono dubbili c'è. Due camion, sei signoristi? Eh, perché è pesante. Sì sì, due camion comodi. Se non due camion, io penso due sicuro, ma c'è roba pesante. Eh lo so perché si è venuto, sì sì sì. Ma noi riusciremo anche a farlo andare così, no? Sì, io penso che se te la sgamano subito. Sì sì, la macinata. Eh, troppo, troppo paremma. Cioè, forse, il discorso è quello, stai, metterla nel mezzo, metti la tornitura sopra. Nel balsamo non si potrebbe vedere, poi non lo so se è più ragnata, hai capito? No, io pensavo di immaginarla tipo quei tre camion lì, buttarci dentro un cambio di tornitura. Capito? Secondo me questa è una prova con un po' di roba, perché se potessi buttare le tornitura vabbè immaginarla tutta una tornitura, c'è un cambio di tornitura sempre. Dove abbia fatto fare tutte le schifezze che avevamo lì? Io non c'ho più un casco, c'è solo la tornitura 304 e l'alluminio, basta. Il resto è tutta roba pulita.